Coronavirus, cresce l'epidemia nell'Ulssotto Berica, positivo il 13,4% dei tamponi. Aumentano positivi e ricoverati, Zaia, riformuliamo le cure domiciliari, 200.000 studenti meno sugli autobus. DPCM contraddittorio e antieconomico, il sindaco Rucco annuncia, siamo pronti a fare ricorso. San Bortolo a caccia di personale per fronteggiare l'emergenza, rafforzato il servizio igiene e sanità pubblica. Katia Ricciarelli a Vicenza contro i teatri chiusi, senza arte e cultura, è la fine per il paese. Buonasera dal TG Vicenza, il bollettino di Azienda Zero, bollettino delle ore 17 che ci dà un primo dato. In Veneto si supera per la prima volta dall'inizio dell'emergenza la soglia dei 20.000 attualmente positivi. Il doppio rispetto a una settimana fa. 1.624 contagi in più rispetto a ieri, solo 42 e le persone negativizzate. Altri 10 decessi nelle ultime 24 ore e una crescita dei ricoveri. 784 in area non critica, 95 in terapia intensiva. Facciamo il punto anche con il bollettino di oggi dell'Ulss 8 Berica. Il bilancio degli ultimi 4 giorni. Da venerdì sono stati effettuati 5.206 tamponi, 699 positivi, ovvero il 13,4%. 4 i pazienti in terapia intensiva negli ultimi 4 giorni, 5 sono stati i decessi. Ci sono stati anche 75 guariti. Forze dell'ordine schierate, ma il tam-tam per l'ennesima manifestazione di protesta contro il DPCM dei commercianti non si è tenuta. Piazza dei Signori, ore 18, si presentava così. La manifestazione annunciata da parte di alcuni esercenti e gestori di bar stasera non c'è stata. Presenti invece le forze dell'ordine, come da copione, carabinieri, polizia ed agenti della polizia locale, a presidiare la piazza, simbolo di Vicenza. Le proteste contro le disposizioni del nuovo DPCM, però, non si esaurisce qui. Le file delle categorie che affiancavano i gestori di bar e ristoranti si ingrossano con i rappresentanti del mondo dello spettacolo e della cultura. Già domani mattina si attengono qui i rappresentanti di palestre, piscine e delle attività sportive amatoriali chiuse. Sempre in questa piazza, domani sera hanno annunciato che torneranno le associazioni dei locali che hanno animato con 500 presenze la prima manifestazione pacifica di ieri. Per oggi testimoniamo solo il rispetto delle 18 nella chiusura delle attività. Sedie e tavolini restano vuoti, ma è palpabile la tensione di chi vorrebbe vedere spostate più avanti le lancette degli orologi. Per molti è davvero una questione di drammatica sopravvivenza. Nella conferenza stampa odierna il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha parlato tra le altre cose delle cure e anche delle proteste nelle piazze di ieri. Per ogni ricoverato da Covid in terapia intensiva ce ne sono nove ricoverati in area non critica. È uno dei dati illustrati oggi dal presidente del Veneto, preoccupato della crescita delle ospedalizzazioni e quindi con una proposta già sul tavolo. Abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro per riformulare i protocolli di cura domiciliare, affinché il paziente si senta sereno, tranquillo e sia seguito. Anche sulle proteste di piazza da parte degli esercenti, Zaia ha le idee chiare. Ho visto una protesta che è fatta di gente che non chiede sussidi ma chiede di poter lavorare. Ho visto una protesta di persone con le mascherine e quindi non sono state assemblee negazioniste, no? Non è che sono arrivati quelli che dovevano distruggere tutto perché il Covid non esiste. Persone che hanno investito contro il Covid perché per adeguarsi alle linee guida hanno dovuto investire e che oggi sono disarmate davanti a questo principio secondo il quale la loro chiusura rappresenta la salvezza o quantomeno l'appiattimento della curva dei contagi, che non sarà così. Abbiamo analizzato luci, ombre e contraddizioni di questo DPCM, questo provvedimento che sta scatenando dure proteste. Vediamo. DPCM anti-Covid ma anche anti-cultura, anti-palestre, anti-ristoranti, in una parola anti-economico. Utile dal punto di vista sanitario? Forse sì, probabilmente no. Perché la curva dei contagi in Italia è simile a quella dei paesi DPCM free, senza decreti che fanno male alle tasche. Come le cattive medicine, anche la cura del governo ha tanti effetti collaterali, troppe controindicazioni. Contraddizioni. Si può pranzare al ristorante di giorno, ma di sera no. È vietato come se il virus fosse esclusivamente in ottambulo. Noi crediamo invece che la questione vada ribaltata, non chiusure ma aperture. I locali, quando gli spazi sono organizzati, sono presidi anti-Covid. C'è un gestore che risponde della sicurezza, che vigila sul rispetto delle regole, sulle distanze, sull'uso della mascherina. Se i locali chiudono, la movida è incontenibile, si sposta, i ragazzi si incontrano in zone franche, in modo anarchico, senza regole. E ai sindaci non resta che inseguirla, tappando le falle, chiudendo oggi una strada, domani una piazza. Tutto questo non ha senso. Autobus sovraffollati e bar, ristoranti, palestre, in clausura. Attività che invece, se rispettano le norme, potrebbero lavorare in totale armonia con le disposizioni anti-Covid. Se si può bere un caffè in sicurezza fino alle sei del pomeriggio, allora lo si può bere alle stesse condizioni anche dopo. E si può assistere, con le identiche misure, con le medesime distanze, a uno spettacolo a teatro o a un film in una grande sala. Giusta la vigilanza, tolleranza zero sul rispetto delle norme, ma chiudere le attività oggi è un danno ai cittadini, agli imprenditori, ai gestori e di conseguenza allo Stato, che perde contribuenti, ai comuni, che devono sostenere sempre più cittadini in difficoltà. Per questo chiediamo ai sindaci di attivarsi. Dobbiamo stringerci intorno al nostro governatore Zaia e sostenere la sua teoria, cioè quella di rivedere il DPCM. E' chiaro che si può fare in modi diversi, il primo è quello politico e poi c'è quello anche giudiziario. Quindi lascio la possibilità aperta anche di ricorsi contro un DPCM che venga rivisto. Credo che in autotutela però il governo possa intervenire per sistemare le cose, alla luce anche del fatto che comunque dobbiamo stare attenti alla situazione sanitaria e alla tutela della salute pubblica. Quindi lei è pronto a fare un ricorso? Ma non lo escludo, però chiaramente dovremo valutare anche con le altre amministrazioni. Se c'è un'azione coordinata potremo anche starci. E dagli aspetti politici a quelli sanitari. L'ospedale San Bortolo è a caccia di personale nei reparti per far fronte al virus. Intanto viene rafforzata la squadra del servizio igiene e sanità pubblica oberata di lavoro. La seconda ondata del covid avanza inesorabile anche sul territorio dell'uslotto Berica. 1.700 attualmente i soggetti positivi a casa, 140 i positivi al giorno. L'ospedale San Bortolo, se non in sofferenza, si vede costretto nei prossimi giorni a mettere in stand by gli interventi programmati, mentre si riducono reparti per ricavare personale medico e infermieristico anche a fronte di personale positivo al covid. Abbiamo lievemente ridotto l'area chirurgica sia nella parte ortopedica per otto posti letto, ritorna alla dotazione che ha durante le ferie estive, quindi non è una vera riduzione, e anche nelle chirurgie specialistiche, ottorino, maxillo e chirurgia plastica. Questi qui si hanno una riduzione di una decina di posti letto proprio per recuperare del personale e poter aprire delle aree covid. Chiusa la lungodegenza dell'ospedale di comunità di Valdagno, causa personale positivo, sarà riaperto dopo la sua sanificazione, chiusa e recuperata dalla lungodegenza di Lonigo. È il contact tracing, il tracciamento dei contatti, oggi ad essere in difficoltà. La mole dei positivi vede una media settimanale di anche 3.000 persone da contattare. Lo slot occorre ripare e rinforza la squadra del SISP, il Servizio Eugiene e Sanità Pubblica. Abbiamo reclutato 8 medici tirocinanti del territorio che ci stanno dando una mano da ieri, tecnici della prevenzione e altro personale sanitario che si è offerto volontariamente. A pesare sono quei contatti sociali che il nuovo DPCM vuole limitare al massimo, mentre restano da smaltire entro la settimana ancora 700 soggetti. Per chi ancora non è stato raggiunto dal SISP è partito da domenica un servizio SMS con il quale il soggetto viene informato che sarà contattato al più presto, ma allo stesso tempo vengono fornite indicazioni sui comportamenti da tenere. Si lavora sulla e con il territorio in una stretta sinergia con i sindaci, che da oggi avranno oltre ad una mail diretta alla quale scrivere anche una persona dedicata. L'altra grande questione è la scuola. Abbiamo 130 classi in questo momento dall'inizio della scuola con almeno un positivo, più o meno un 30-40 nate perché abbiamo trovato un ulteriore positivo e una media di 15 classi tamponate ogni giorno. Sotto controllo le case di riposo e i loro 3.800 ospiti, rafforzata la presenza sanitaria con un medico in servizio. In vista della festività di tutti i santi e della commemorazione dei defunti, il virus limita le celebrazioni in cimitero ma non le cancella. C'è l'invito del Vescovo di Vicenza a dilazionare le visite ai cari defunti in tutto il mese di novembre. Festività di ogni santi e dei defunti, il Covid e le misure di contenimento del virus vanno ad incidere ma non fermano del tutto quelli che sono due tra gli appuntamenti più sentiti della nostra religione. A riguardo la penitenzieria apostolica, proprio per far fronte alle esigenze dei fedeli e il contempo rispettare le misure di distanziamento sociale, ha previsto l'allungamento per tutto il mese di novembre della possibilità per chi fa visita ai defunti in cimitero di dare l'indulgenza plenaria per i propri cari. Il Vescovo di Vicenza ha invitato i singoli parroci a contattare i sindaci dei loro comuni, che sono responsabili delle aree cimiteriali, per valutare insieme se queste celebrazioni sono fattibili nel rispetto della... Sul fronte delle celebrazioni religiose all'interno dei cimiteri, il Vescovo di Vicenza ha invitato i parroci ad accordarsi con i sindaci responsabili delle aree cimiteriali. Nel caso si tenessero, le indicazioni sono chiare. La diocesi invita comunque a tenere celebrazioni brevi e che garantiscano tutte le misure predisposte anche per le celebrazioni che normalmente si svolgono nelle chiese. Il Vescovo Monsignor Beniamino Pizzioli il 1 novembre alle 15.30 atterrà al cimitero monumentale una breve cerimonia con benedizione delle tombe, mentre il 2 novembre sarà in cattedrale dove celebrerà due sante messe in suffragio dei fedeli defunti e per le vittime del Covid. Anche la cultura in crisi di conseguenza. Il Teatro Comunale di Vicenza chiuderà in deficit, ma secondo il Segretario Generale il primo socio è il pubblico. Questo DPCM ha tagliato le gambe a questa ripartenza del teatro, perché era comunque una ripartenza. Sì, era una difficile ripartenza e che era un'anteprima della vera stagione che sarebbe partita a gennaio. A pagare con il mondo della ristorazione delle palestre il costo più elevato di questo nuovo DPCM è ancora una volta la cultura, nemmeno il tempo di ripartire che il Teatro Comunale di Vicenza è di nuovo chiuso. Unica soddisfazione è la stagione dei classici dell'Olimpico terminata sul filo del rasoio dell'entrata in vigore del nuovo decreto. Quella di quest'anno è stata l'edizione del tutto è possibile, nel senso che realmente abbiamo avuto per le 19 repliche di spettacolo abbiamo avuto tutti i sold out, abbiamo avuto tutti gli incontri strapieni di gente con liste di attesa. Un successo da 45 mila euro di incassi che scalda il cuore raggelato dalle nuove misure che inevitabilmente incidono sul bilancio 2020, già previsto in deficit, come anche quello del 2021. In questi mesi sono venute meno moltissime entrate, dai biglietti agli abbonamenti, dalle sponsorizzazioni alle prevendite al noleggio delle sale. Il rischio nel 2022 è la chiusura. Il nostro pubblico ce l'ha già dato una mano, ci ha lasciato ben 120 mila euro, che è come una quota associativa, il che vuol dire che uno dei soci fondamentali del teatro è proprio il suo pubblico. E sempre a proposito di cultura, oggi a Vicenza abbiamo incontrato il soprano Katia Ricciarelli, che vuole dire la sua a proposito del DPCM. Le ricrute sullo spettacolo di questo DPCM? Lascia perdere, guarda, perché se dovessi parlare, dopo dicono, ma lei perché parla? Primo, non è vero che il teatro è superfluo, specialmente l'opera lirica, il melodramma, che è considerato una cosa che solo diverte. Noi non divertiamo così perché siamo giullari, lavoriamo perché ci piace ed è un lavoro il nostro, una professione. e c'è tanta gente a spasso per questo, tanta gente. Lascia perdere i cantanti o gli artisti primari, diciamo, ma alle spalle c'è un mondo. Orchestra, coro, macchinisti, sarte, di tutto, elettricisti. Quindi è una cosa immensa quello che c'è dietro, è un mondo. La che può sostenere? Ma sostiene, ma sicuramente la sostiene, perché guardi, ho fatto tre mesi di pandemia in casa e se non avessi avuto il canto e la musica da ascoltare, qualsiasi tipo di musica, mi sono veramente rilassata e ho capito quanto sia importante, insomma, la cultura è importantissima. Un paese come il nostro, che ha tante belle cose, insomma, da far vedere, bisogna fare anche sentire, perché noi siamo veramente il paese del melodramma, che è un patrimonio estrettamente proprio e totalmente made in Italy. L'abbiamo inventato noi nel 600. In Italia c'è il teatro olimpico, che è il primo teatro coperto nel mondo, insomma, venerlo chiuso... No, è un pianto. Potrebbero organizzarsi e fare delle cose, far fare le cose a chi le sa fare bene. Quindi, distanziare il tutto, pochi artisti sul palcoscenico, pochi strumentisti e magari si danno il cambio e fanno dei turni, ma però tutti devono lavorare con grande coscienza. Purtroppo tutti parlano perché hanno la bocca. Un messaggio a Conte? A Conte? Mi piacerebbe tanto incontrarlo. E cantargliele? No, cantargliele in maniera giusta, insomma, no, non cantargliele, ma spiegare che cosa significa e che cosa si potrebbe fare senza andare contro a tutte queste regole. Non toglieteci però l'arte, perché sennò siamo rovinati. Il paese è rovinato. A Sport in Casa Alex e Giuliano questa sera ospiterà Federico Formisano di Calcio Vicentino per fare il punto sui risvolti dello stop al calcio di Lettanti. La serata di Rete Veneta con focus alle 21.15. Ospiti Luigi Cassan, Maurizio Conte, Roberto Marcato, Leonardo Padrin, Silvano Piazza, Simone Scarabell e Giorgio Vigni. È tutto per questa edizione di TG Vicenza. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Ben trovati al meteo. Pressione indecisa aumento sull'Italia, ecco che anche al nord-est avremo un tempo più stabile. Il dettaglio di mercoledì 28 ottobre. Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, tuttavia nelle ore più fredde della giornata saranno possibili foschie o nebbie in pianura e localmente anche sulle vallate alpine. Per il resto ampio soleggiamento dappertutto, cielo sereno o al massimo velato. Vediamo anche le temperature minime tra i 5 e i 9 gradi, massime invece tra i 14 e i 17 gradi all'incirca. Vediamo ora come sarà la previsione per Vicenza in città ma anche in provincia. Al mattino avremo locali riduzioni della visibilità. Dal pomeriggio invece sarà decisamente più soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Dal meteo per ora è tutto. Buon proseguimento con Rete Veneta.